la tana dell'orso approfondimenti e curiosità ciao a tutti eccoci qua luna dell'uva parte seconda mi è stato fatto notare che lo scorso video che parlava appunto della luna dell'uva la luna per quel riguardo scorso video presentata come quella di agosto aveva una piccola mancanza aveva una piccola specifica che chi mi segue conosce bene ma che può generare della confusione a coloro che non mi seguono nell'astrologia questa si chiama luna blu e la prossima che cadrà settembre sarà chiamata luna dell'uva la luna blu è la terza delle quattro lune di una stagione che appunto a quattro lune al posto che di norma le solite tre per quanto riguarda la mia tradizione invece quella che mi è stata passata al mio maestro e che mi ha colpito ed affondato per la sua semplicità una stagione normalmente a tre lune quando ce n'è una quarta questa va in coda come un punto esclamativo a esclamare l'ultima luna in corso quindi è una sorta di luna dell'uva 2.0 e va a rafforzare il significato di tutta la stagione quindi in questo caso stagione del raccolto di tutto il senso del racconto della gratitudine che dobbiamo avere come se la luna dell'uva iniziasse questo plenilunio continuasse anche al prossimo quindi va proprio a rafforzare non avevo specificato assolutamente mea culpa se vedete sul finale dello scorso video che ha infatti l'appendice finale sul finale dello scorso video sono stato distratto a tenere bloccata selva e quindi ho completamente rimosso questa cosa chiedo scusa se questo ha fatto confusione chiedo scusa a tutti gli astrologi presenti per non avere specificato la cosa quando accade fatemi piacere se mi dimentico qualche parte o avete delle cose da completare o da correggere per fare anche una bella discussione secondo le varie tradizioni mi raccomando commentate o come in questo caso comunicate con me in privato dicendo ehi forse ti sei dimenticato un pezzo assolutamente sì quindi niente chiedo scusa aggiungete a questo pezzo all'altro video adesso andremo a incollare il collegamento di questo all'altro in modo che chi lo vede avrà il collegamento per la luna dell'uva barra luna blu 2.0 e niente prometto che mi ricorderò nei prossimi casi questa specifica e che risottolinea appunto la mia tradizione di questi non mia tradizione che seguo e che espongo di altri che hanno passato a me che espongo ad altri questi tre nomi delle prime tre lune in caso hanno una quarta luna che si chiama luna di potere che si incolla dietro la cosa importante quale non è tanto litigare sui nomi ma prendere il senso che è quello che è giusto che corretto e capire sentire percepire quello che più ci risuona semplicemente io posso avere dei concetti cristiani posso avere dei concetti buddhisti posso trovare assolutamente delle similitudini tra queste due spiritualità queste due filosofie ma poi sentire quella che più risuona a me quindi essere nel caso in questo esempio buddista o nel caso questo esempio cristiano quindi facciamo la stessa cosa prendiamo entrambi i messaggi prendiamo come vi specifico spesso prendetemi sempre con le pinze tenete quello che vi risuona quello che non vi risuona lasciatelo andare e quando avete delle certezze o sentite che qualcosa è giusto non abbiate paura comunque sempre a confrontarlo perché magari trovate o qualcosa di più corretto o qualcosa che per quanto non sentite non percepite corretto ma in qualche modo si mette in gioco vi mette a confronto cerchiamo di avere sempre un approccio rispettoso verso gli altri di dialogo di accoglienza e anche critico verso gli altri verso noi stessi pur che le critiche siano assolutamente costruttive quindi fatemi il piacere quando capiterà nuovamente una stagione con quattro lune io le presenterò sempre a mio modo se mi dovessi dimenticare questa specifica essenziale per cui segue anche all'astrologia e per non fare confusione con gli altri canali scrivetemi in maiuscolo nei commenti hai fatto una cosa grave io dirò o miei dei di nuovo mi sono dimenticato dannazione e spero che non accadrà ma se accadesse scrivetemelo a carattere cubitali hai fatto una cosa grave detto ciò grazie di tutto e perdonatemi ancora alla prossima grazie a tutti